L'ho già detto, se qualcuno di voi aveva visto la trasmissione, l'avevo detto già da un po' più facile a che tempo che fa. Sono solo, in Serie A mi fa molto piacere, però sicuramente è molto più importante che l'Italia rimanga in Serie A. Questa è la riflessione principale. E ci sono le condizioni adesso? Le condizioni, i giocatori ci sarebbero anche. L'allenatore anche? C'è uno spogliatoio un po' di viso, però. No, ma penso che poi le divisioni sono più apparenti che l'arrivo. Non c'è un po' di senso privato. Va bene, non chiederò se l'aumento dell'IVA inciderà sulle squadre di Cari. No, quello non lo chiediamo assolutamente. Non lo so. Niente, niente. All'Assemblea. Sono solo azionista e non sono coinvolto nella decisione della squadra. E quindi nemmeno delle questioni legate all'IVA. Questo è inassimplice. Presidente, ma una domanda calcistica. Quando ci sarà Sassuolo-Inter? Scusi, Milan-Sassuolo o Sassuolo-Milan? Per chi ti fa? Diciamo che cercherò di essere il più neutro possibile, però io sono minorista fin dalla nascita, quindi mi lascio la risposta. La risposta è lì. È un po' come il presidente del Chievo, che era tifoso dell'Inter. Anche lui quando andò in Serie A si trovò a... Non lo sapevo. E poi il Sassuolo rinnova questa tradizione delle piccole squadre che fanno un filotto continuo in diversi anni. C'è stato anche il Novara qualche anno fa. Quest'anno è stato molto bello arrivare dopo un campionato veramente dominato dalla prima all'ultima partita. Con qualche rischio nel finale perché era forse galata un po' la tensione. Però è difficile viene adesso. Ma comunque il calcio consente che l'Italia alle imprese non è consentito o sì ancora? Sì, c'è sempre la possibilità di farlo. Ma ricordo che peraltro noi eravamo il main sponsor della nazionale italiana in Germania nel 2006 quando nessuno se lo aspettava. Dobbiamo proprio andare, dai. Uscivamo dallo scandalo... Per il ciclismo? No, del calcio di... Del calcio da Sisi. Di uve, emoji e compri. Andiamo ragazzi, dobbiamo proprio andare. Però in un momento bassissimo abbiamo il mondiale. Andiamo. E noi eravamo il main sponsor. Anzi, sponsor Porta Fortuna. Grazie.